Ciao a tutte ragazze, breve video di saluto non sono impazzita indossando questo rossetto è Hop di Mulac e che sto facendo dei test su questi nuovi rossetti li sto valutando li sto provando faccio le foto, li abbina a vari make up quindi ho deciso, siccome ero lo evo suo, ho deciso di fare questo breve video con Hop addosso che spero vi piace, è un colore bellissimo che davvero io indosserei anche per uscire, peccato che che non si può vi dicevo che è un video di saluti io sto per partire per le ferie e ci rivedremo su Youtube sicuramente a settembre con tantissime novità ci saranno tantissimi make up tutorial con la Different di Mulac e con i nuovi rossetti Mulac veramente cercherò di avere mille idee e di farvela vedere in tutti i modi ci saranno anche tantissime collaborazioni con altre ragazze altre Youtubers altre ragazze della pagina comunque vedrete tantissima roba e cercherò di riprendere attivamente anche il blog rimarrà fermo per questo periodo mentre nella pagina Facebook sono riuscita a programmare alcune cosine che vedrete nell'arco di questi giorni in ogni caso io cercherò sempre di entrare ogni qualvolta di darvi magari il buongiorno, la buonanotte e vado lì per rilassarmi ma comunque vi tengo vi tengo sempre con me vi porto sempre con me e a questo punto io vi saluto vi auguro delle buone vacanze a chi le farà e a chi è già in ferie godetevi questi giorni a chi non andrà in ferie magari godetevi se riuscite il weekend sperando che il tempo migliori date la bruttissima situazione che c'è al nord mi dispiace ragazze speriamo che davvero migliora la situazione quindi vi auguro di passare eventualmente dei weekend o anche solo delle giornate al mare comunque di rilassarvi e stare un attimino sereni anche se sono due giorni o se ne sono invece lenti vi mando un grosso bacio e vi rimando a settembre a presto ragazze ciao ciao ciao